La via francigena come un unico pacchetto turistico uniforme, fatto di storia, natura e turismo slow. Sono nate le quattro aggregazioni suddivise per aree dei 39 comuni francigeni toscani. Con la firma di una convenzione la regione affiderà agli enti locali il compito di gestire l'accoglienza, l'informazione turistica, le attività di manutenzione dei tracciati escursionistici, la promozione, il monitoraggio e l'analisi dei flussi turistici. I comuni così diventano i veri protagonisti della via francigena. Partiamo con una prima dotazione di quasi 500 mila euro che mettiamo a disposizione, 270 sono per l'ippovia, ciclovia, quindi per la segnaletica e le attrezzature, 50 sono di supporto all'ospitalità di carattere religioso, 150 prime risorse messe a disposizione per collaborare agli interventi di manutenzione ordinaria. L'accordo fra i comuni della francigena toscana, fra i 39 comuni e l'individuazione di 4 aree da parte della regione per la manutenzione della via è un accordo importantissimo perché è un esempio per tutte e 13 le regioni della via francigena. Il tracciato della via francigena è stato diviso per aree quella nord con il comune capofila Pontremoli-Massa, centro-nord con Lucca, centro-sud con Fucecchio e sud con Siena. Un primo passo di attuazione della nuova legge regionale che prevede 4 aggregazioni territoriali di prodotto che partono con la via francigena, cioè comuni che si mettono in rete per occuparsi di informazione, accoglienza e anche promozione in raccordo con la regione toscana del loro tratto di via francigena. Tra pellegrini e turisti il flusso dei visitatori sulla via francigena è in costante crescita perché la rappresentazione del turismo lento che è a cavallo, a piedi o in bicicletta consente di vedere le bellezze della Toscana in un contesto a contatto con la natura.